Cari amiche e cari amici, questo è un articolo di Roberto Pecchioli intitolato Il climatismo, ideologia di bassa all'agio e povertà, che potrete leggere in versione integrale sul sito Idee e Azione. Nella temperie fulminea dei cambiamenti di questi frenetici e terribili anni, ha un ruolo centrale una narrazione ripetuta sino allo sfinimento, creduta per bombardamento mediatico. È l'ideologia del cambiamento climatico. Come insegnò Carl Schmitt, le ideologie sono concetti teologici secolarizzati, che nel caso del climatismo ciò è assolutamente evidente. Il climatismo è una vera e propria fede religiosa con i suoi riti, le conferenze internazionali periodiche, i suoi fedeli e i suoi discepoli, i suoi gran sacerdoti, scienziati, militanti di tutto il mondo, e anche la gran sacerdotessa Greta Thunberg dal linguaggio apocalittico, il volto imbronciato e il tono ansioso e ansiogeno. C'è naturalmente una divinità a cui prestare il culto, femminile, come prescrivono i tempi. Egea, la Terra, vista come un organismo vivente, in qualche misura senziente, il cui nemico principale è l'homo sapiens. I banditori più importanti non sono profetti disarmati o apostoli, ma i piani alti del potere economico, finanziario, scientifico, che ha imposto la nuova ideologia nell'ambito dei suoi piani di dominio a lungo termine. Il Grand Reset, l'Agenda 2030, nascosti dietro la doppia cortina del cambiamento climatico e della transizione energetica che ha già reso carissime le bollette elettriche del gas. Rispetto a qualche anno fa, vi è un cambiamento di non poco conto. Prima si parlava del riscaldamento globale, oggi i padroni delle parole hanno ripiegato sul più generico cambio climatico. E già, il cambio climatico del pianeta, ma la sua origine deve essere a tutti i costi antropocentrica. È l'uomo con la sua volontà di potenza, di arricchimento, il predatore e il nemico di Gea. Colui che mette in pericolo l'equilibrio naturale. Fin qui nulla da eccepire, è la verità, peraltro proclamata da tempo da più parti, ma senza successo. È nei dettagli che si nasconde l'inganno o almeno la profonda contraddizione. Il clima cambia, ma la ragione non sta nei cicli a lungo termine della natura, bensì nell'esclusiva opera dell'uomo. È il primo peccato di Ibris, la dismisura in visa ai padri greci. Gea cambia, fa i capricci, semplicemente, forse, segue il suo cammino epocale, ma il responsabile è solo l'uomo. Con altrettanta arroganza e volontà di potenza, la religione climatica offre la soluzione. Sia l'uomo stesso a modificare Gea, a interrompere e ribaltare il cambiamento attraverso una declinazione nuova, ecologica e sostenibile della propria tecnologia. La tecnica, la scienza umana, dunque, restano i demiurghi, strumenti di un dio minore, ma non troppo. L'uomo sapiens è riconfigurato in amico della natura, alleato d'ingea. Il climatismo è una volontà di potenza mascherata dalla proclamata bontà dei suoi obiettivi. Sarà infatti l'uomo a cambiare il corso del clima terrestre, attraverso comportamenti condotte e scelte di modelli di sviluppo che placheranno l'ira di Gea. Eh sì, il primo baco del sistema, l'ideologia climatica, è l'impossibilità di verificarne l'esattezza. E infatti è impossibile affermare o negare che il pianeta si stia riscaldando e raffreddando a lungo termine. Non è possibile. Cominciate a metterlo anche lo stesso gruppo internazionale sul cambiamento climatico, che in un rapporto ufficiale ha concluso che nella ricerca e creazione di modelli climatici dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte a un sistema caotico e quindi la previsione a lungo termine degli stati climatici in futuro non è semplicemente possibile. Del resto, anche l'opinione pubblica sa che le previsioni meteorologiche non sono affidabili se non entro l'arco temporale di 15 giorni. Per il resto vale la regola aurea dei nostri nonni. In estate fa caldo e l'inverno fa freddo. In autunno pioverà, perlomeno sotto i nostri cieli. La metodologia delle predizioni climatica soffre di un difetto irrimediabile che la invalida in radice. Lo dimostrò 60 anni fa Edward Lawrence, legato a piccole variazioni nelle condizioni iniziali che rendono inaffidabile l'esito finale. L'atmosfera, scoprì, è un sistema deterministico caotico e diede inizio alla teoria del caos. È nota la semplificazione chiamata effetto farfalla, ovvero la dipendenza nella teoria del caos, piccole modifiche nelle condizioni iniziali. È celebre l'articolo di Lawrence intitolato «Predittività». Può un battito d'ali del volo di una farfalla in Brasile determinato e un tornato in Texas? Le conclusioni degli scienziati più seri parlano di probabilità, mai di certezza. Le fedi, però, come il climatismo, non conoscono sfumature. E il cambiamento climatico per i suoi devoti è certo, va nella direzione del riscaldamento globale e dovuto non a fattori naturali e ignoti in lungo periodo, ma all'azione umana. Il secondo pilastro su cui si costruisce la politica climatica, dopo la dogmatica della colpa umana, è l'ideologia della non alternativa che si concretizza nella proclamazione dello stato d'emergenza, il quale esige la sottomissione e la realizza combinando la paura della catastrofe proclamata con il timore di essere espulsi dallo spazio pubblico. Se non si è fedeli alla linea, la punizione è per chi non si dichiara membro della nuova fede. E già, funziona. Crea vittimismo, conformismo, quel tanto di indignazione contro un potere cattivo, finalmente smascherato dai buoni che i burattinai usano con consumato cinismo. Certo, non è che basta annunciare la catastrofe. Bisogna che il messaggio sia incessante, drammatizzato, caricato di urgenza, paura, sempre nuovo. Ogni dubbo a riguardo va combattuto costantemente su un ampio fronte. Funziona bene perché è stato creato un apparato di molte migliaia di funzionari. E viva Greta Thunberg, a tempo pieno per la protezione del clima nelle ONG, in varie fondazioni, agenzie, istituti di ricerca, autorità pubbliche, imprese, anche nelle chiese, ovviamente nelle redazioni di giornali e televisioni. I lobbysti verdi, generosamente finanziati dal governo e dalle grandi fondazioni private, tutte ovviamente controllate da straricchi, i primi responsabili dei guai ambientali, hanno una salda presa su tutto ciò che accade. Ed è il potere di Fridays for Future, Friends of Earth, Greenpeace, WWF e chi più ne ha ne metta. Inoltre, il pubblico è investito da un'informazione permanente a senso unico nei media pubbliche e privati. E vi è quella informazione di Greta, di Greta Thunberg. L'informazione ha senso unico in confronto agli scettici detti spregiativamente negazionisti, come tutti coloro che dissentono dalle narrazioni imposte dall'alto, non hanno praticamente alcun sostegno finanziario e diventano quindi invisibili. Lo spirito del tempo verde, lo spirito di Greta Thunberg è sacrosanto e onnipresente. Nessuno è disposto a impegnarsi in un dibattito aperto sulle incertezze della ricerca dell'impatto sul clima, sui tanti modi per affrontare il cambiamento climatico, sull'equilibrio tra costi e benefici delle diverse misure da adottare. Nessuno è disposto a dire ad altavoce che l'obiettivo di essere climaticamente neutrali nel 2045 e nel 2050 è una fissazione arbitraria. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Per il fisico e politologo Matthew Crawford una delle caratteristiche più sorprendenti che siamo governati da tattiche intimidatorie sembrano inventate proprio per ottenere il consenso pubblico. E questo accade in molti ambiti. Le sfide politiche dei critici presentate come fatti, argomenti, non si risponde in modo amichevole ma con la denuncia, quindi minacce epistemiche per risolvere l'autorità di un conflitto morale tra buoni e cattivi. E naturalmente indovinati chi sono? I buoni gli si legge in faccia. È il meccanismo utilizzato affinché la narrativa scientifica della catastrofe climatica da evitare con urgenza diventi la base permanente di politiche sempre più lontane dalla realtà. Gli obiettivi climatici non hanno nulla a che fare con la realtà. Dopo quasi 30 anni di politica di protezione del clima il vento e il sole forniscono circa il 6,5 dell'energia primaria. Sì, avete capito bene, il 6,5. In Europa questo. E nessuno crede seriamente che raggiungeranno il 100% di energia rinnovabile in 25 anni. Ma che? In compenso spenderemo grosse somme. Sì, grosse somme. Per cosa? Eh, guardate un po' il recente aumento delle bollette energetico. Tutto a carico nostro ovviamente. Oggi circa l'84% dell'energia mondiale continua a provenire da fonti fossili. 25 anni fa era l'86%. L'Agenzia internazionale per l'energia prevede che la percentuale potrebbe scendere a circa il 73% entro il 2040, sempre lontanissimi dallo zero. Il calo delle emissioni tedesche negli ultimi dieci anni è stato di 200 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo la Cina ha aumentato le proprie emissioni di circa 3 miliardi di tonnellate. L'inquinamento è solo trasferito da un'area all'altra di Gea. L'unico pianeta di cui disponiamo, come ripetono le anime belle. Guardate quanto sono belle queste anime, quanto sono belle. Insomma, siamo di fronte a un'egemonia culturale, all'armismo climatico, senza alternative. I giovani che entrano nell'età adulta hanno trascorso tutti gli anni di scuola con la minaccia di catastrofe incombente. Se un politico affermasse che il cambiamento climatico è sì una sfida, ma che il mondo conosce problemi più urgenti, quello sarebbe un pazzo! La realtà della ricerca sul clima che produce ogni giorno nuove scoperte crea un panorama sempre più differenziato è in gran parte ignorata. E rimane una sola politica. Quella della paura! Quella della paura! E già, perché la scienza, a differenza della pseudoscienza, della negazione scientifica o delle teorie del complotto, implica la volontà di valutare i dati, cercarne di nuovi, di essere aperti, oltre a esaminare ipotesi e prove con salutare scetticismo. L'evidenza empirica può essere manipolata, utilizzata per mascherare l'ideologia, creare consenso a sostegno di tesi e ipotesi a cui è interessato il potere. Che ricordiamolo, è lo stesso che finanzia le ricerche, sceglie e paga i ricercatori. Che strane coincidenza. E le affermazioni di un consenso scientifico relativo al riscaldamento globale antropogenico, colta colpa dell'uomo, non sono prive di controversie, ma nell'era degli obblighi, dei divieti e delle verità di Stato non sarebbe sorprendente se la visione dominante fosse imposta punendo anche per via giudiziaria le opinioni dissenzienti. Eh sì, l'ideologia fideistica del climatismo vuole che gli scettici vengano messi a tacere con la forza, perfino perseguiti per crimini inseriti ex novo nei codici penali. Nel frattempo l'insistenza sull'esistenza di un consenso scientifico sulla natura e le cause dei disturbi rischia di dirigere il finanziamento e l'accettazione delle proposte di ricerca verso coloro che promuovono la visione dominante. Mentre la complessità del clima rende difficile modellare con precisione la stabilità intrinseca del sistema complessivo, sembra che esistano altri meccanismi climatici interni che tenderebbero a stabilizzare entro certi limiti le temperature e le variazioni climatiche. Esempio le nuvole. Il vapore acquo svolgono un ruolo dominante nel determinare le temperature globali medie. Ma non c'è un'idea chiara sulla risposta delle nuvole a una tendenza del riscaldamento dovuta a progressivi aumenti del contenuto di anidride carbonica nell'atmosfera. Le argomentazioni scientifiche sui cambiamenti climatici sono il fulcro delle imminenti politiche di azione per il clima, comandate, ovviamente, e propagandate come parte del grand reset. La necessità di un grave sconvolgimento per l'economia globale. Le restrizioni alla libertà umana e la proprietà privata imposte dai governi in risposta all'influenza globale sono probabilmente solo un antipastino di un'espansione del controllo politico e tecnologico per affrontare il cambiamento climatico. Il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico annunciò nel 1990 un codice rosso basato su vari fattori, tra cui l'aumento irreversibile del livello del mare. Si possono trovare prove per la certezza dell'innalzamento del mare, ma interpretazioni alternative della stessa fonte e dalla stessa fonte di dati suggeriscono che l'effetto potrebbe essere minimo. Tre pollici in cento anni. Qualcosa di ridicolo. Quindi potrebbe esserci molto tempo per l'adeguamento. Il dibattito, al contrario, tende a utilizzare un tono allarmistico, eh già, un tono allarmistico. La scienza si fa in cella del potere. L'esito nuovo feudalesimo in cui il dominio tende a diventare assoluto, con l'ausilio dei vassalli e una maggioranza schiacciante ridotta a servi della greba impoveriti per buone cause, che non sono altro che narrazioni che si fanno fede. Eh già, il climatismo è una sanitarizzazione della vita, un'altra sanitarizzazione, entrambi nemiche della libertà e della prosperità. Confrontiamo le nostre bollette e capiremo che non stiamo parlando di massimi sistemi, concetti astratti o lontani, ma di vita e di fregatura quotidiana. Bravo Roberto Vecchioli. Un piccolo contributo per il decimo d'oro. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.